Il 28 aprile a Spilimbergo in provincia di Pordenone torna l'appuntamento con la T-Liment Marathon Bike che anche quest'anno sarà internazionale. Per il quarto anno consecutivo infatti sarà valida come prova del UCI Marathon Series, una gara che vede protagonisti il Friuli Venezia Giulia, Spilimbergo ed il fiume Tagliamento. Un percorso disegnato tra il grande fiume Friulano e le prealpi carniche. Tre sono i tracciati proposti, il Marathon di 104 chilometri e 3.250 metri di dislivello dedicato a chi si vuole mettere alla prova in un tracciato duro, tecnico e di estrema bellezza. Il medio di 52 chilometri e 1.300 metri di dislivello per chi predilige i tracciati gran fondo. Ed infine il percorso breve di 18 chilometri e 195 metri di dislivello per tutte le categorie giovanili. Ce n'è per tutti i gusti, non resta che iscriversi, il 28 aprile è vicino, tutte le informazioni sul sito della manifestazione tilimentmarathonbike.it.